Bello, 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 si va anche questo lo vedete bianco, lo vedo sangue tromba 1, tromba 2, trombone 1 un attimo d'attenzione, scusatemi, queste sono tutte le parti di baritono c'è anche l'amen, ma il titolo fu più conso il titolo fuori prendiamo la tromba 2, prendiamo la tromba 3, tromba 4, come siete veloci, vincereci di me no, io c'ho sul batteri ehi, ehi, dove sta a leggere? iii, aveva detto ero rimasta iii l'inglese perché la nota legata della terzina è un altro respiro quindi alla 32 abbiamo ok? l'inglese perché l'inglese perché l'inglese perché l'inglese perché il do bemolle gliel'ho lasciato perché sto aspettando quello che mi dice ma è difficile leggere il do bemolle ma il do bemolle gliel'ha lasciato al barito io speravo il do bemolle l'inglese perché 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 l'inglese perché